Barbara D'Urso ha trascorso la Pasqua a Napoli insieme alla sua numerosissima famiglia. Ha assaporato queste prime feste nel ruolo di nonna. Nonostante di recente abbia perso le staffe contro il paparazzo che invasi i suoi spazi e la sua intimità scattando alcune foto di famiglia, questa volta lei stessa ad aprirci le porte del suo privato, pubblicando sui social un rarissimo scatto con il figlio e il primo con la sua nipotina. Noi tre, e poi lei, e poi lei, la gioia infinita, scrive la conduttrice a corredo di uno scatto insieme alla sua prima nipotina. Sono le sue mani unite a quelle della bimba, oltre a quelle del figlio Emanuele, diventato di recente papà, e a quelle della nuora. Si tratta di una piccolissima eccezione per l'Adurso che in genere non lascia trasparire nulla della sua vita privata, ma è la sua prima pasqua da nonna all'entusiasmo e alle stelle. Tanta gioia lascia pensare che prima o poi la conduttrice aprirà qualche spiraio sui follower mostrando qualcosa di più della sua vita privata. Per il momento si limita ad uno scatto simbolico che racchiude tutto l'amore della sua grande famiglia. Grazie a tutti.